Medusa Film presenta... Una notizia buona e una cattiva. Licenziato. Pagio ancora. Che c'è peggio di licenziato? Sei trasferito al Nord. Al Nord? No. A Lione? Non a Lione, Nord Nord. È il Nord. Se pensate che il Nord sia il posto ideale per vivere... Ma sentirò caldo e al Nord ci arriverò cadavere. No, meglio se ti abitui subito a portare sempre questo coso. Perché non c'è solo la nebbia. È arrivato a ventilazione. Perché tutti parlano correttamente la lingua. Le si è rotta la mascella? Le fa male quando parla, no? Che? La sua mascella sta bene? No, non ho niente, va capuzza. Ah, le assicuro che si esprime in maniera molto, molto particolare. Perché parlo stia così? E perché sono tutti davvero civili. Che carne è? Dipende da quello che troviamo. Aspetta, vedrai tu. Vi sbagliate di grosso. Il film che ha fatto ridere 20 milioni di francesi fino alle lacrime e che in Francia ha ridicolizzato tutti i record di incassi arriva in Italia. Io adoro il Nord! Giù al Nord. Dal 31 ottobre al cinema.